A Tosca, andiamo a... Era Fernando, il commesso della calzoleria. Adesso faceva la borsa nera e girava per i paesi con la sora Tosca, che pagava le spese. Hai caricato tutto? Stavo parlando con questi ragazzi. Che sono tre prigionieri inglesi. Ma chi? Chi là? Ah, meglio, e questi sono inglesi di San Giovanni, sono... Le servono un paio di scarpe a te? Scarpe? Rolto fino. Ah, buffoni. E sono romani, fanno i prigionieri per sbaffare. Romani, Dio mio, romani! Lorenzo! Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo! Capora! Sono romani! Sì! L'inglesi!